L'idea di UiTaxi nasce circa tre anni fa, da me, Luca e Ignazio, all'epoca lavoravamo insieme al Politecnico di Torino e volevamo costruire un servizio trasparente ed economico per potersi muovere in città in sicurezza rivolta ai giovani. Quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto UiTaxi era il periodo in cui Uber stava chiudendo in Italia e volevamo offrire qualcosa di diverso ai nostri utenti, volevamo offrire una piattaforma tecnologica che fosse davvero collaborativa, quindi abbiamo pensato di mettere al centro tanto i nostri utenti a cui offrire dei vantaggi quanto chi lavora nella nostra piattaforma e quindi i tassisti. Riusciamo a garantire a tutti gli utenti della nostra piattaforma dei vantaggi esclusivi e delle garanzie. I punti di forza di UiTaxi sono la collaborazione e quindi il fatto che noi piacciamo a tutti, ai nostri utenti e ai nostri tassisti, però partiamo dalle due ragioni per cui poi piacciamo ai nostri utenti. Innanzitutto la trasparenza, con UiTaxi sei subito quanto spendi, inserisci l'origine, inserisci la destinazione, noi ti diciamo il prezzo. Questo prezzo è la tariffa massima che pagherai, potresti pagare di meno se il tassametro indica di meno, ma non puoi pagare di più e quindi se abbiamo indicato un prezzo troppo basso tu comunque sarai garantito da questo prezzo. Il secondo grande vantaggio di UiTaxi è la condivisione. Si è stato il primo servizio taxi in Europa a offrire la possibilità di condividere il taxi in tempo reale. Questa cosa permette ai giovani di viaggiare a un prezzo conveniente. UiTaxi è sicuramente all'inizio, siamo partiti due anni fa, nell'ultimo anno, nel 2019 abbiamo aperto il nostro servizio in altre 21 città, eravamo a Torino e poi abbiamo aperto 21 città, tra cui chiaramente le città principali in Italia, Milano, Roma e Napoli, oltre a Torino. Ora ci tocca continuare questa crescita, migliorare il nostro servizio e magari guardare anche all'estero. Beh diciamo le difficoltà che si incontrano sono moltissime, si fa tanta fatica tutti i giorni ma forse è anche quello che diverte, tutto questo sudore che si spende. Diciamo che ci muoviamo in un mercato molto competitivo, pensate che qui a Torino oltre a UiTaxi ci sono ancora UberTaxi, quindi parte della famiglia Uber e poi FreeNow, ex MyTaxi, parte del gruppo Mercedes e BMW. Quindi sicuramente una competizione molto forte, con delle grandissime capacità finanziarie, il nostro modello è molto diverso, noi non consumiamo così tante risorse finanziarie, abbiamo un modello molto più collaborativo, quindi si fa molta più fatica a raccontare il nostro modello, a coinvolgere i nostri partner, quindi le radio taxi e le cooperative taxi, però devo dire che mi piace ricordare più che le fatiche che abbiamo fatto, mi piace ricordarmi di tutte le soddisfazioni che ci stiamo togliendo. Sinestesia è stata chiave nello sviluppo del nostro progetto, ci ha accompagnato da quando eravamo quattro persone nel nostro ufficio. Noi chiaramente siamo una start-up, per noi è fondamentale portare competenze e risorse a bordo della nostra azienda, Sinestesia ci ha sempre permesso di gestire tutto quello che non riuscivamo a fare da soli. Da sempre abbiamo avuto supporto lato mobile, anche lato front-end, quindi lato web, ma in più abbiamo sempre avuto un supporto in termini di competenze di alto livello, di seniority, insomma con una buona esperienza e poi anche simpatia e voglia di lavorare assieme. Come WeTaxi negli ultimi sei mesi abbiamo chiuso due importanti aumenti di capitale che oggi ci fanno guardare al futuro con davvero tanta voglia di fare. Quando si pensa a una piattaforma come la nostra si pensa che il problema che dobbiamo risolvere è quello di creare un'applicazione per permettere agli utenti di chiamare un taxi. In realtà quello che facciamo è molto di più. Ogni giorno ci interroghiamo non tanto come permettere agli utenti di chiamare un taxi, ma come aiutare gli utenti a risolvere il loro problema, ovvero quello di muoversi in città. Il problema diventa ogni giorno più complicato, perché oltre a risolvere il problema di muoverci in maniera sicura, economica e veloce, dobbiamo sempre di più rispondere anche alla sostenibilità ambientale. Quindi nel futuro di WeTaxi vedo un futuro sempre più green, vedo una voglia di andare oltre confine, di fare tante cose, ma soprattutto di farlo in una maniera ambientalmente sostenibile. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.